Commentate qui sotto con il risultato esatto di Lazio-Roma, non i marcatori, quindi è più facile da beccare. A tutti quelli che indovineranno faremo lo screen e li andremo a ripostare sul nostro profilo di Instagram. Detto questo, buona visione e vai col video. Non so se vi state rendendo conto di che cosa stiamo parlando, di che partita stiamo parlando, ma soprattutto di che weekend stiamo parlando, perché c'è anche il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui nostri video. Due canali di calcio, un canale extra calcio. Tutti i canali in infobox compariranno qui durante il video. Fai scaricare loro la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Ovviamente ragazzi stiamo parlando di OneFootball. Cliccate qui sul bannerino in descrizione. Ragazzi, vi esce di tutto e di più. Credo che non ci sia altro da aggiungere. L'unica cosa che vi posso dire è, se ancora non l'avete provata, non sapete che cosa vi state perdendo. Link in descrizione. Tiè! Sai chi te tocca? A Roma. Tocca a me la Roma, perché l'ultimo gameplay Roma-Juve, tu avevi preso la Roma. Ok. Io avevo preso la Juve. Quindi già sapete a chi tocca il Juventus-Inter, la Juventus e a chi l'Inter. Detto questo, prendi in mano il controller, so che ti piace. Queste dovrebbero essere probabili formazioni, possiamo andare. No, no. Tiè! Dagli che se comincia! Abbiamo deciso di farlo sui football, perché qui entrambe le squadre sono ufficiali. Mentre su FIFA no. No. Giusto? Giustissimo. Non sa nessuna delle due. La Roma sicuro no. Esatto. Chiedo scusa ragazzi, ma non mi ricordo mai. Come finisce sto gameplay? 1-1. 1-0 per te. Ma sai per quale motivo? Sì, per controgufalla. Guarda. Come hai fatto? Eh. Mi stimmate. Come hai fatto? Oggi per montare, non lo posso dire perché poi è una cosa che riguarderà il video del terzo canale. Ok. Per montare una cosa. Te sei distrutto la mano. Mi sono distrutto una mano. Quindi non lo so come andrà a finire. 1-0 per lui secondo me. E perché 1-1? Vai. Che ci lo fengo? Smelling. 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 Vai. No, smelling è putzing. È smelling, sì esatto. Pure profuming volendo. Oh. Ciavatta. Gol. Oh. 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 Occasionissima. Palla per spinni spinni che moccia tutto lo spinni spazio. Lo spazio spi... Pi. Meno male. Ma. Meno male. Ma. Ma che è? Ma che è? Manco mi fai rivedendo. No. Non ho fatto nulla. Non ho fatto nulla. E lo so. Eh. Sì. Mo dove vado io? Che è? Eh sì. Ma distratto. Mo se segna è colpa di... Sì come no. Sì sì. Guarda guarda guarda. No vabbè. No vabbè. Non mi dica che ti ha dato calcio di rigore perché me ne vado eh. Io te lo giuro. No ma dimmi che fallo l'ho fatto. Fallo mio. Eh sì guarda. C'è c'è. Tutto aperto là. Che gli faccio? Vai Felipello. Vai Felipello. Chiusa. Occasionissima. Questa sì. Occasionissima ragazzi. Questa per me sì. Questa sì è stata una grossa occasione. Pericolosissima. Paolo. Mortacci tua. Mamma mia. No. Guarda che buona. Oh. Ma ho capito ma è 47. No Fabio non vale. È 47. E' nato. Ma che me so osservato i mortacci tua. Me dici di fermi. Ma me fermo sì. Ma non ti devi fermo. Guarda qua qua qua. L'olio di Lorenzo. Mamma mia guarda come stai qua. E non è Pellegrini. Guarda come stai qua. Cioè ragazzi non potete capire. Fabio. Uno. Quattro. Fabio. Ne hai fatto un tiro. Ne hai fatto. Questo vince uno a zero davvero. Guarda. Sta andando secondo i miei piani. Arriva arriva. Non ti preoccupare. Esci. Esci. No vedete. Ma che buona. Ma Anna Pedro. Ma dove l'ha andata? Non ci manchi. No no. È angolo. È angolo. Ho sentito vibrare il controller. Probabilmente l'hai parata. Niente. Tutto molto. Ma. Mamma mia. Porca. Mannaggia. Mamma come sono uscito però. Mamma c'hai una fortuna Omar al solito. Dai. C'è incredibile ragazzi. Vai Pedro. Vai Pedro che mo ce la fai. Vai Pedro che mo ce la fai. Vai Pedro che mo ce la fai. Guarda l'ultimo. No. No. Guarda 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 che sta. Non lo sa manco lui che sta combinando. Oh è sempre là ti rimane eh. Ti spacco la porta. Ti spacco la porta. Zalewski. Ti spacco. Ti spacco. Sei stato fortunato però. Si ma passa a vantaggio a Lazio Fabio io non c'è potenza. La posso fa. Sei stato fortunato. Io con te non c'è la posso fa guarda oh. Zalewski identico eh. Si Zalewski uguale. Oh quella è la mia. Hai ripresa. Prima ancora uguale. Eh c'è. Qua si è andato dritto. Eh vabbè. Ce ne sa. S'era grado lo spazio. 1 a 0 Roma. E rivediamola anche da questa angolazione cristante che fa il passaggio. Eh l'homese è fermato male. Giusto. Zalewski. Il sinistraccio di Zalewski. Sinistraccio. Ha tirato di sinistro. Ma te lo de destro. Ma te lo de destro. Oh scusate. Mamma mia. Vedo al contrario. Poi se io che non ci vedo eh. C'è le perde va. Chissà. Puttaccio la parecciata. Mamma mia guarda qua qua. Butta via. Quello che succede succede. Vai. Mamma mia. Constantat è buono. Ma Anna. Sì vabbè. Ho capito ma te ritorna. Naccia quel porco. Eh vabbè ho capito. Ma io più di così. Ma che devo fa? Devo appallonare. Vai che alta. Vai che alta. Vai che alta. Dai. La ripartenza è stata bellissima. La ripartenza. Ho messa benissimo. Eh. T'ho driblato. Te volevo mandarla ma speravo. Ah pensavo come voli mandarla a fan c***o. No no. Te ci volevo mandarla proprio là. Però. Sì sì. Prove a fan c***o. Sì. Vai. Bravo. Mamma mia Milinkovic. Un inutile. Inutile. Cioè quindi al derby sarà determinante. No li mortacci tua che li mortacci. Fallo booo. Li mortacci tua che li mortacci. Dagli Felipe. Dagli Felipe che la ripete in piedi. Uno a uno. Al minuto 84. Secondo i nostri gameplay se dovrebbe verificare il contrario e dovrebbe pareggiare la Roma. Dai. Uno a uno. Uno a uno e non è ancora finita. Io ce la faccio più. Ce la faccio eh. Eh lo so. Andiamo a vedere. Dai. Rivediamo. Rivediamo l'azione. Ho provato. Scusate il polpettone. Eh lo so. Guarda Smalling. No ma Smalling. Se l'è fatta passa a mezzo. Sì. Ero convinto di prenderla. Dico la verità. Ero convinto che l'avrei agganciata. Vediamo di quanto da qua si vede. Milinkovic al volo. No. Gli ha passato a mezzo alle gambe. Eh sì. Raga. T'ha fatto salta al banco. Raga. Capita una volta ogni dieci partite una cosa del genere. Ma forse pure venti. T'ha fatto salta al banco. T'ha fatto salta al banco. T'ha fatto salta. Te spaccola zia. Levate. Si è fermato per le grini. No. No. Dai. No. Manna Pedro. Manna Pedro. Vai che il gol dell'ex è tuo. Vai che il gol dell'ex è tuo. Oh. Ho doppiato. Eccolo. No. Eccolo. Mamma mia. Ma si sta a levar il gommino. Ma tu zia. Ma si sta a levare. Mamma mia che ragione che c'è. Io non ci posso credere ragazzi. Che occasione. Pensavo a un certo punto. Hai vinto tu. Hai beccato il risultato. 1-1. E' vero. Pensavo. Ma mia. Ma come si era messa a portarmela a casa. Oh. 7-4. Ti ho recuperato. Ti ho recuperato una cifra. Allora. Detto questo. Mi tocca l'Inter perché nell'ultimo game play è bellissimo. Roma-Juventus. La Juventus l'avevo presa io. Queste dovrebbero essere probabili formazioni. Quanto finisce? 2-1 per me. No. Non voglio dire la stessa cosa. 1-0. No. 3-2 per te. Perché io non ce la faccio con sta mano. Quindi. Beh. Pronti? Ecco. Pronti. Ti è. No. Ho lasciato i falli di mano. No. Mi pensavo chissà che cosa. Sì. Mi pensavo chissà che cosa. Ma ti ricordi l'ultimo game play che è successo? Ne lo so. Vabbè. Dai che se comincia. Ovviamente. Juventus e Inter. Qui su FIFA sono entrambi. Licenziate. Quindi. Ovviamente. Gioco forza. L'abbiamo fatto qua il game play. Detto questo. Due derby. Fino a Tuzia. Il motto della tua squadra che ti tocca quest'oggi. E io con l'Inter adesso cercherò di fare cose. Anomale. Ecco. No. Anonime. Mamma mia. Pensavo andasse sotto l'incrocio. La facilità. Come sapete. Attendi a costi. Che hai fatto? Ci ho capito. Di Maria. Quest'altro doveva fare una parata semplicissima dove la fa. Sì. In effetti era abbastanza simbola. Infatti. Chi è? Di Marco. Va bene. Portiamo Di Marco qui. E poi da Di Marco. Ecco fatto. Guarda. Guarda. Io me ne vado. Io me ne vado. Sì. Vabbè. Ma non è possibile. Non è possibile. Dai. Su. Ho capito. Non è possibile. Io non ho fatto niente. Sì. Vabbè. Ma non è possibile. No. Fabio. Dai. Forse è dunfis. Cioè. Robbo. Non è esagerato. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Lukaku. Ma che sta fatto? Tifoso della Juve. Non ho parole. Sì. Sì. Per una volta che l'ho. Sì. Sì. Per una volta che l'ho piazzata bene. E Di Maria bestemmia parte del suo cognome. Oh. Ma l'ho piazzata benissimo. E io che volevo bypassare questa cosa qui invece. Che insisti proprio. Va bene. Non ho parole. Dov'hai che esce a voto. Rimortacci tua. Un altro fallo domani non ci puoi dare a stare. Ma rimortacci tua. Stai tranquillo. Sì. Stai mazzerello vai. Stai proprio. Vai una capocetta fatta così. Così no. Stai proprio sciallo. Parca il calcio di rigore. Questa è mancavole. Sì. Ti ho fatto 10 di rinporta. Sto con una mano di meno. Romelu. Ma tu hai visto. Ma la tua hai visto cosa ha fatto. Ha segnato e ha esultato sugli spalti. E al contempo è anche tifoso della Juventus. Che ha fatto. Non ho capito. L'hai toccata. Non c'è non l'hai visto niente. No. Non l'ho visto niente. Ma davvero fai. Ma davvero fai. Ah è squalquarellato. E che vuole da me. Te posso cantare una canzone se vuoi. Cioè sto gioco tra falli di mano e papere dei portieri è una cosa infinita. Stai tranquillo che allungano altri due tre falletti di mano. Dalla P-Hop. Eh tanto poi gli sbagli. Gli calci di rigore. Quindi. Anche di destro Lukaku è incontenibile. Ragazzi sta facendo veramente le pizze. Le pizze. No le pizze. Ma che è un cavallo. L'hai toccata? No. Sei sicuro? Sicurissimo. Guarda qua ma lasciano mezza squadra. Mezza gente. Ecco mi sono sbagliato. Esci. Ma guarda che hai fatto. Esci no così. No. Eccolo BDP. Eccolo BDP. E che cos'è questo? Segna sempre questo. Segna oh. Eccolo BDP. E ho capito. Eh. Ed è l'1-1. Da guarda che sarà ma andiamo da là oh. Sì ho capito Fabio. Adria Rabiot. Adria Rabiot. Cioè ma con Anna dove va? Cosa fa? Adria Rabiot la butta dentro. Ma quanto è andata a velocità? Non ce l'ha fatto vedere. Sssssh. Caci. Pure l'effetto audio fai. Eccetto ovvio. Va c'è gente che torna. Mi serve gente che torna. Adria Rabiot. Vai a lavorare. Te spacco la zia. Niente. Cioè poi dice fa 600 tiri a partita. Me l'avesse fatto uno pericoloso. Uno. Uno. Sono avanzato fino al momento più opportuno. Cioè ma avessi fatto un'occasione pericolosa. Poi dice ho fatto 184 tiri nello specchio. Cioè le mani. Dai. Eeeh. Dai era fuori gioco. Dai su era fuori gioco in quarto d'ora. Rigore. Ma che rigore che era fuori gioco dei sei anni. Stavi pure dopo il portiere stavi. Ecco. Appunto la chiamata. Manna Dusan. Guarda come era messa in bocca. Finisce primo tempo. Non pensate a male. Non date letta a quello che dice. Vabbè ho capito. Detto questo. Fida primo tempo. È successo de tutto. Com'è solito. Un fallo de mano a partita. De solito tre. Media del 2-3. No. Vabbè dai. Diciamo che è equilibrata. No. Marco. Si è equilibrata perché. C'ho più gol previsti ne te. Niente. Marco. Ah. Ma è stato attento di Marco. Si era fatto prendere le spalle. Io con una mano sempre. L'importante è che te fa pia le palle. Eh va. Vai. Bellu. No. No me ne vado. No. No non ci credo. Me ne vado. Me ne vado. Ma è un tico. Non è possibile. Ma è un tico. Ho capito. Mi rotti con i c***i. No. Non lo faccio a posto. Non lo faccio a posto. Ma me ne vado a posto. Ma me ne vado a posto. Ma non è manco mano. Ma me ne vado a posto. Ma voi sempre tu. Ma non è manco mano. Era testa. No. La presa di mano ho visto io. La presa di mano. Però ragazzi non può essere. Cioè ma perché non capita mai a me. Vai su. Ma vattene a posto. Non è giusto. Non è giusto. Non è giusto. 2 a 1. Ma 2 a 1 di che. Oh comunque. Ma non è giusto. Dalla prossima. Basta fare le mani perché non è possibile. Cioè ma. No tu avevi pure detto. Quando ho dato invio. Ha detto pure. Che sarà mai. Che sarà mai. Ecco sta vincendo. Che sarà mai. Che sarà mai. Che sarà mai. La partita scorsa 5 volte fare le mani. E appunto mi hai detto che sarà mai tu. E ho capito. Nel senso. Eh sì. Basteranno troppi alla partita. Eh sì. Ho visto. 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 Infatti sto perde. Grazie a questo. E altri due calci di rigore. Non lo so io. Cioè ogni volta tu sta perdere queste storie. Settimana scorsa quando era? Non era settimana scorsa. Vabbè. Due settimane fa. Due settimane fa. Sì ma per una volta ci ho vinto. Eh io pure. Eh mo. Sì sì. Perché ci ha vinto. No. Mai. No. Manco poco. Non ti azzardà. Tiè. Beccate questa. Sì. Ma sì. Beccate questa. Ma che t'ho fatto la patacca di Sida? Ma cosa ti ho fatto? La paraccesni. La patacca. Eh? De scesni. Eh? C'è l'amacolo abbastanza infastidito eh? Lui. Vai. Vai. Sì vabbè. Mi sceglio. Ma mia. De sinistro no de destro. Fallo de mano. Fallo de mano. Te la sei buttata addosso. Ma io pensavo che era i gol. Non è possibile ragazzi. Non ce la faccio più. No no. Non ce la faccio più. Io farei l'esposto a EA Sports. Ma io farei l'esposto a tu madre farei. Io farei l'esposto a tu madre farei. Ma che c'è stai? Ma che c'è stai? Non ho parole. Ma che c'è stai? Ma una tussana. Ma una tussana. Ma una tussana la patacca di Sida. Vai. Ma via dell'underc***o. Da l'avete dell'underc***o. A te i mani. A te le mani. I mani. I mani. Eh ragazzi. Eh guarda l'album. Spipi blin blin blin. Andava completamente a voto. E non m'ha contento. Sì. No. Ma prega Dio che in t'arriva un altro fallo da mano. A romper i co***i. Eh. Molto ho detto. Cioè è vergognoso De Sciglio. Cioè De Sciglio è vergognoso. De Sciglio. De Sciglio è vergognoso. De Sciglio è vergognoso. Cioè è manco da gli altri. E sai tempi d'oro. De Sciglio ha fatto un fallo di mano. Ma dai ragazzi. Ecco il fallo di mano. Ecco il fallo di mano. Lo schiaccio niente guarda. Te lo chiamo. Te lo chiamo adesso. Ecco il fallo di mano. Eccolo. Lo sento. Esci. Manna fagioli. Ma quanto c***o ci metti. Mannaggia quel porco. Guarda me sono proprio stranito a sta parca. Ragazzi. Ma non è possibile. Che a lui ogni. Cioè. Ogni partito. Ogni 90 minuti finchi. Gliene danno 5. De falli di mano. Basta. Basta. Dalla prossima. E' la prossima. Non so più. Non è veramente. Cioè. Sta bene a parlare. E' falsata. Cioè. Questa era vinta. Rega. Questa era vinta. Ragazzi. Questa era mia. Questa è la vinta. Diciamo che. Per i colprevisti. T'ha andata pure bene. Diciamo. Pursa pure a parlare sta. No. Si. No. Manco poco. Basta. Zitto. Fammi ne andava. Ma va che è meglio. Eh si si. Ciao.